Il nostro paese non è presente davanti al edificio di corte, un edificio che sta parando per la quale c'è giustizia nel nostro paese. Mi servizia che ci sono già che un luna è finita, ora ci siamo arrivati nel Parlamento di Aruba, un parlamentario si tratta il suo ritiro e ho visto che un giorno dopo ci si tratta di un comunicato di prensa di un corante locale, chiamando che ci si tratta di un motivo per quale c'è giustizia nel nostro paese che ci si tratta di un caso di lavamento di placa. Mi servizia che ci si tratta di un'accusazione abbastanza forte e ora ci si tratta di un pensato di comportare possibile che in un organo più alto del nostro paese non ci si tratta di un rumor che ci si tratta di un corante che ci si tratta di un caso di lavamento di placa che ci si tratta di un caso di lavamento di placa. Mi servizia che Il dono di curva, il parlamentario, non ha desmentito la notizia qui. Noss'amirà anche il corrento, con questa informazione qui, non ha capito più di tema qui, ma non ha capito più di una rectificazione di parte del corrento, per vedere che questa notizia è la verità. Ma ancora, ora che ho intervistato il leader del partito, e il presidente del nostro paese, nel caso qui, il signor Eman, e quando si è preguitato, arriva la accusazione qui, ma non ha capito più di un Presidente, con una bella nerviosa, e non ha capito più di una clarità, e che ora non ha capito più di parte del parlamentario. Ora, con l'entrevista di un collega del partito, ma non ha capito più di una clarità, e mi ha capito più di una clarità, e mi ha capito più di un Paese che non può permettere di un'acusazione di un'acusazione, e questo è sicuro che ci sono il regno di più alto in un paese qui, e penso che il silenzio del nostro ministro è il mandato di condenare, e il silenzio sicuro anche di noi ministri di infrastruttura. Passo non l'obbeda, dopo la mia notizia, ci sono ancora una notizia con il lavamento di placi, cammino con il terreno, con il procedimento di una forma illegale. E qui non è ora, non si viene, si viene, è chiesto del asunto qui e non avisa nulla. La mia notizia, il leader di fraccia e di AVP del Parlamento, ora con il punto di vista, è che la mia notizia con la salute solamente, però non è in un momento che non si tratta di lavamento di placi e che ora non si viene con la notizia. Ma la mia notizia, come il paese, non si viene, è chiesto. Arriva la notizia qui, se la mia notizia, è vero, è vero, è vero, è soprattutto un silenzio, che è apparito hermeticamente, ma non è vero, è vero, è vero, Inizia che informazione qui, non è vero qui, è neanche la giornata qui, non è vero, ci s La situazione è una situazione che il popolo e il popolo stanno facendo le pregunte. E poi ci sono le pregunte che il popolo è una messa dell'anticorto, che è simbolizzato la justicia. Quindi il popolo stanno facendo le pregunte e il popolo stanno facendo le pregunte per la justicia. E il popolo è un'organo più alto del nostro paese.